E vai! Tanta musica e allegria per le ultimissime ore degli acquisti natalizi, questa la band che ha girellato e suonato per le vie del centro su iniziativa di Confesercenti, in questo sabato prenatalizio per augurare ovviamente Buon Natale. E tanto per stare in allegria c'è persino chi taglia il panettone con una motosega. E intanto in redazione sono arrivate tantissime foto dei vostri alberi e presepi che pubblichiamo con grande piacere per augurare a tutti i nostri telespettatori un sereno Natale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!